Ehi, ciao! Con questo video voglio spiegarti come accedere alle schede dell'ABC della CR, una risorsa del progetto di sceppoli missionari per i primi passi degli educatori nel loro percorso di formazione. Vuoi preparare alcuni incontri formativi per i tuoi educatori di prima esperienza? E o aiutanti educatori dei 15 anni in su, oppure aspiranti educatori? Semplice! Nel sito di Azione Cattolica Padova trovi tutto quello che ti può essere utile. Dove? Nella pagina dedicata al progetto di formazione di sceppoli missionari. Accedi alla home di AC Padova, clicca educatori, successivamente clicca disceppoli missionari. Scorila fino in basso. Troverai sotto il titolo Formazioni educatori. Egli saranno presenti dei link come percorsi di avvicinamento, l'ABC della CR, anno 0, anno 1, anni di approfondimento ed elenco di tutte le schede. Clicca su percorsi di avvicinamento all'ABC della CR, ed ecco, troverai una breve presentazione. L'ABC della CR pronto per l'uso, nonché alcune schede di approfondimento. Ora basta scaricare l'ABC della CR. L'introduzione contiene le istruzioni per l'uso e tracce predisposte per ciascuna delle quattro tappe. La chiamata, identità, il metodo, la relazione. Le schede di approfondimento servono per offrire qualche spunto in più per la formazione degli educatori. Buon lavoro!